Ma per noi pescaresi, la riserva di Montevorgo di Popoli, è un luogo dell'anima, nella geografia del nostro territorio appartato, produttore di solitudine. Ecco il nuovo calendario dei Carabinieri per l'anno 2020, presentato questa mattina in Prefettura a Chieti. Non sarà un calendario ortodosso, ma condito da disegni e racconti. Sono storie reali di fatti accaduti che vengono interpretati dalla grande scrittrice Margaret Mazzantini e rappresentati in maniera magistrale da Mimmo Palladino, uno dei più importanti artisti del panorama italiano e internazionale. Lo scopo è quello di umanizzare la figura del Carabiniere e di farlo apparire così più vicino alla cittadinanza. La prossimità, la vicinanza del Carabiniere, soprattutto in quelle condizioni di fragilità, di debolezza dove c'è la necessità del Carabiniere. Il Carabiniere puntualmente è presente. Quella di oggi è stata anche l'occasione per Enzo Marinelli, comandante del Nucleo Investigativo Provinciale di Chieti, da circa un mese, di presentarsi al pubblico. Aveva ricoperto un ruolo di vertice già a Montesilvano fino al 2014 e, dopo una parentesi marchigiana, è ora tornato in Abruzzo. Da circa un mese ho assunto il comando del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Chieti. Come dice la parola, investigativo, quindi dovrò trattare fenomeni criminali. Montesilvano è la terza città di Abruzzo, lì avevo un incarico differente che era quello di comandante di compagnia. Molte dinamiche comunque spesso sono identiche perché comunque il territorio è molto vicino. Peraltro la costa della provincia chietina è simile a quella della provincia pescarese, per certi versi.